Grazie all'alleanza con la Rochette diventiamo un'azienda che va in tutta Europa. Allora non voglio dimenticare la forza, l'ira, che sono le nostre operaie. Siamo state vendute. Chi ci possedeva da domani è in minoranza, comandano i soci stranieri. Allora? Ci fanno fuori o siamo salve? Ognuna di noi dovrà votare espressamente sì o no. Bianca, che cazzo stai a dire? Rispondi! Parla chiaro, che cosa vogliono? Cos'è? Uno scherzo? Ci mettono alla prova per vedere che cosa possono ottenere. Qui è tutto il nostro vantaggio. E stop! Io rifiuto. Vabbè, io voto sì. Che sono disposta a fare per lavorare, eh? Tutto lo siamo disposti a fare, tutto! Per cazzo! Io sono ancora una ragazzina. Se ognuno di noi da sola si è convinta che un po' fa niente, che cazzo ci siamo venuti a fare qua? E se quello che guardiamo non è cielo? Mamma mia che sta per cascaccio in testa.